La relazione tesa del principe William e del principe Harry ha ancora molta strada da fare prima che i fratelli possano riparare il loro legame, ha affermato un esperto reale dopo aver citato una conversazione con l'ex biografo della principessa Diana. L'ex biografo della principessa Diana, Andrew Morton, ha dichiarato la sua convinzione che molta acqua che deve passare sotto i ponti prima che si riconciliano dalla loro spaccatura. L'autrice di Diana, Ertru Story ha detto all'esperta reale di The Insider Michaela Friel che il principe Harry e il principe William non hanno ancora messo da parte le loro divergenze. Nonostante abbiano mostrato un fronte unito durante la cerimonia di inaugurazione della statua di Diana. La signora Friel ha dichiarato. È difficile perché i loro team di stampa sono notoriamente molto a denti stretti su questioni personali, non riveleranno alcun contenuto di conversazioni private tra i fratelli, ma sappiamo che hanno avuto quell'interazione all'inaugurazione della statua. E sembravano essere in buoni rapporti. Sono stati fotografati mentre parlavano, ridevano e tutti hanno un'opinione al riguardo. Di recente ho intervistato Andrew Morton, che potresti conoscere come il biografo di Diana, ma la sua opinione era molto forte e ha detto che sentiva che la famiglia aveva molta strada da fare prima che ci fosse un qualsiasi tipo di riconciliazione. Quindi, anche se questi grandi eventi stampa stanno raccogliendo il supporto e tutti coloro che li vogliono, mettono da parte le loro differenze, crede che potrebbe non essere così semplice. Questa è solo un'opinione. Ma vale la pena tenerla a mente considerando tutto ciò che è successo negli ultimi mesi con l'intervista a Oprah e tutte queste storie che sono uscite. Parlando con la signora Friella d'Aprile, Morton ha dichiarato. C'è una sensazione generale nei media e tra il pubblico che vorremmo vederli riconciliati. Quindi tutti, che sia vero o no, si aggrappano a qualsiasi tipo di cannuccia di riconciliazione e costruire una casa di paglia di speranza, ha detto a Insider Morton, autore di Elizabeth and Margaret. Penso che ci sia molta acqua che deve passare sotto il ponte prima che quei due e il loro padre si riconciliano. Non dici che tuo fratello è intrappolato e tuo padre è intrappolato nell'istituto in cui sei nato, e ti aspetti che tutti essere tutta dolce.